Che ora è? Scusa ma che ora è? Che non lo posso perdere? L'ultimo spettacolo In fine del mondo, in mondo visione, diretta da San Pietro per l'occasione La borsa sale, rimarrò di mostro, ribatte il record di autogol E l'istate giudizio universale Avevo trasmesso per i telegiornali Ma le feste unificate poi sulla pagina 6, 6, 6 La prima però sul canale 9 ci sarà Il Dota Festival del Dolore con la finale dei casi umani Meno meno mani che mai I cutami recinti hanno dentro che la fila niente ciccia Niente, ma fuggi di più leggero Bruciando le tue scuole di preservati Fiori, 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 amore, bello, sei sì, sei tu Che ora è la fine del mondo? 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 AAAAAH! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.